Ciao, sono Luca Manelli e in questo video voglio farti vedere come puoi realizzare una finestra oppure una porta di forma personale utilizzando Archiglasing. Archiglasing è un add-on per Archicad. La prima operazione che bisogna fare è quella di andare a disegnare bidimensionalmente la forma della finestra oppure della porta. Bisogna andare a utilizzare lo strumento linea oppure lo strumento arco cerchio. Una volta disegnata la forma della finestra devi andarla a selezionare e una volta selezionata dal menu design alla voce extra design se hai installato correttamente Archiglasing trovi la voce Archiglasing. Basta andarla a selezionare e immediatamente ti si apre l'interfaccia dove puoi andare a scegliere il tipo di elemento che vuoi andare a creare. Nel nostro caso andiamo a creare una finestra una porta personale allora bisogna andare a fare clic su questo pulsante. Si apre immediatamente la finestra di sviluppo dell'elemento e partendo dalla parte di sinistra hai la possibilità di andare a selezionare il checkbox se vuoi solo il foro architettonico. Se lo lasci disattivato hai la possibilità di andare a creare la vera e propria finestra con il telaio e quant'altro. puoi andare a definire l'altezza dal piano nel mio caso vado a inserire 100 cm. Potrei andare a selezionare il materiale superficie per le parti vetrate e per il telaio. Per quanto riguarda il telaio vado a selezionare un materiale di superficie legno. Andando a fare clic su pulsante opzioni hai la possibilità di attivare un eventuale telaio extra con le relative dimensioni. Puoi andare ad attivare la creazione del bancale ed eventualmente della soglia davanzale con la possibilità di fare delle scelte di tipo dimensionale e del tipo di materiale di superficie da utilizzare. Nel mio caso vado ad utilizzare per quanto riguarda il davanzale magari una pietra marmo bianco mentre per quanto riguarda il bancale vado ad utilizzare un legno. Una volta fatte queste scelte puoi confermare e puoi andare a lavorare su tutto ciò che riguarda il dimensionamento del profilo e vengono chiamate barre ma non è altro che il telaio delle suddivisioni interne della finestra. Nella parte di destra ci andiamo a concentrare sull'aspetto bidimensionale per cui possiamo andare a selezionare un tipo di linea per quanto riguarda gli elementi selezionati e un tipo di penna. Essendo questa una finestra possiamo già andare a selezionare magari una penna adeguata per la sezione strutturale delle aperture per cui la penna 23 ed eventualmente gli possiamo impostare già uno scostamento del telaio rispetto al bordo del muro. Per quanto riguarda il retino di sezione mantengo il legno e vado a definire le penne. In questo caso abbiamo la penna per gli elementi non sezionati. Poi vado a selezionare la penna 19 che è la penna di sfondo del retino e vado a selezionare la penna 103 che è la penna che andrà a disegnare il retino. Vado a creare il tipo di oggetto finestra nel mio caso e subito sotto la possibilità di andare a definire il nome della finestra. Nel mio caso vado a inserire il numero 1 per cui finestra personale 1. Confermo con ok e Archicad andrà a elaborare la finestra e andrà a creare e posizionare all'interno della libreria. Una volta che ha creato la finestra vado a selezionare lo strumento finestra. Se apro la finestra impostazioni trovo immediatamente la finestra disponibile e una volta selezionata ho la possibilità di andarla a inserire all'interno del muro. Andiamo a visualizzare in 3d. Questa è la nostra finestra. Una volta creata la finestra possiamo sicuramente andarla a selezionare, possiamo andare a lavorare magari con i valori di spalletta e quant'altro, possiamo intervenire su alcune impostazioni all'interno dei parametri per cui abbiamo la possibilità di andare magari a modificare gli spessori del davanzale, l'aggetto del davanzale e del contro davanzale oppure la loro visualizzazione, in modo tale da attivare o meno la visualizzazione di questi elementi. Possiamo anche andare a intervenire sulle superfici. Diventa interessante il fatto che con la superficie del vetro se andiamo ad esempio a selezionare il materiale di superficie generale il vetro viene eliminato. Questo ci permette magari di andare a creare delle strutture da inserire all'interno del muro però senza un riempimento all'interno del telaio. Adesso nel mio caso vado a ripristinare il vetro. Una volta fatte le nostre scelte basterà confermare con ok e abbiamo la finestra a disposizione. Ecco questa è una finestra non totalmente parametrica, almeno per quanto riguarda il dimensionamento lo si va a definire in fase di sviluppo. In una situazione di questo tipo una volta che l'abbiamo inserita la possiamo inserire anche su altri elementi ma se eventualmente andiamo a effettuare delle modifiche possiamo vedere che la modifica non è proporzionale ma l'oggetto viene stirato. Per cui è un elemento che se abbiamo la necessità di usare la stessa forma con dimensioni differenti dobbiamo obbligatoriamente tornare al nostro schizzo bidimensionale e andare a modificare questo elemento visto che è stato disegnato con delle linee. Per quanto riguarda la forma un pochettino più complessa adesso in questo caso nella parte di destra ho inserito nella parte bassa una parte curva il procedimento è lo stesso basta andare a selezionare lo schizzo poi andare a richiamare archi glazing si va sempre a selezionare il pulsante della finestra personale ora non andrò più a ripetere tutte le impostazioni tanto le abbiamo appena viste vado immediatamente a registrare la seconda finestra personale e confermo con ok. Ora vado a inserire questa finestra su quest'altro muro questa è la nostra finestra nella parte bassa per cui nel punto più basso della finestra viene inserito il davanzale proprio perché io in fase di registrazione non l'avevo disattivato possiamo come abbiamo visto in precedenza decidere di andare a eliminare la visualizzazione del davanzale in modo tale da avere una finestra pulita per cui un serramento senza davanzale e possiamo vedere che all'interno del muro viene appunto inserita la finestra con la forma che abbiamo definito attraverso lo schizzo anche in questo caso è un oggetto non parametrico per cui per andare a modificare delle particolari forme dobbiamo sempre andare a modificare il disegno schizzo che abbiamo definito con le linee e gli archi e poi andare a registrare un nuovo oggetto direttamente Grazie a tutti